Questa è arte per te, arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Umbretta su Arte per Te Oggi è uno speedy video per fare calamite con colla a caldo occorrente stampini in silicone, due stecche di colla a caldo, un magnete e la pistola di per colla a caldo Allora, all'interno della pistola metto una stecca di colla a caldo glitterata e spremo tutta la stecca o gran parte di essa all'interno dello stampino state attenti a non bruciarvi spremete, 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 come se non ci fosse un domani riempite lo stampino per la sua metà, in altezza ovviamente ecco qua, adesso sbattete vehementemente sul piano da lavoro devono uscire tutte le bolle sbattete, sbattete, sbattete aspettate che si asciughi completamente la colla ecco qua, vedete, bella lucida e asciutta adesso sformiamola vediamo un po', vediamo un po', ecco il nostro cuoricino guardate che bello, lucido e tutto glitteroso adesso appiccichiamo dietro un magnete io questi adesivi li ho presi da Tiger ma se voi non li trovate adesivi fate come me aggiungete un punto di colla a caldo e appiccicatelo sul retro e voilà, sempre attenti a non bruciarvi la nostra calamita a forma di cuore è pronta che ci vuole? uno speedy video carinissimo che potrete spendere per la festa della mamma mi raccomando, iscrivetevi al canale cercatemi anche sulla mia pagina facebook e su instagram e io sappiate, vi voglio bene ciao!